Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito portosalvo, frutta e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, latte parzialmente scremato brio 59 centesimi, birra drer 33x3 1,50 euro, biscotti in mulino bianco vari tipi 1 euro, passata di pomodoro la palma 50 centesimi, acqua levissima 1,5 litri per 6, 1,50 euro, detersivo lavatrice general vari tipi 2 euro, dio presto lavatrice 69 misurini 6,99 euro, spezzatino di bovino adulto 4,50 euro al chilo, prosciutto cotto, gran gusto, comal 79 centesimi letto, cono 5 stelle San Montana vari gusti 2,59 euro, coca cola litri 1,5 per 2, 2,29 euro, spaccio alimentare via degli Etruschi 2, strada statale 106, merito portosalvo.